Se per tutti la fine dell'anno rappresenta il tempo dei bilanci, nello sport e nel calcio in particolare rappresenta solo una fase di passaggio, perché la stagione agonistica è solo a metà strada. I vertici della Vibonese hanno incontrato la stampa per fare il punto, il giro di boa di una stagione, che rappresenta per i colori rosso-blu l'anno della Svolt, avendo cambiato struttura societaria e squadra, con buoni risultati, sin da subito, ben al di sopra di ogni più ottimistica previsione. Dunque, prospettive interessanti ed un nuovo rinnovato rapporto con l'ambiente dei tifosi in particolare. Una società che si muove secondo linee nuove, rinnovando tutto, ma soprattutto pensando di consolidare il presente e proiettarsi nel futuro. Ma sì, questo doveva essere il primo anno, l'anno di partenza di questa grande ristrutturazione, dal parco giocatori, dalla riorganizzazione aziendale, dalla comunicazione. In effetti, quest'anno avete assistito a tantissime novità. Ho citato i format che stanno piacendo tanto ai vibonesi, quello del caffè vibonese, il stadio Tribuna di Razza. Stiamo cercando di portare anche più leggerezza in un ambiente che, come quello del calcio in generale, con un solo avvibbo, è molto pesante, si si aspetta tanto, si critica sempre molto facilmente. Stiamo cercando di portare un po' di leggerezza. Deve essere un gioco, deve essere uno spettacolo e bisogna prenderlo per quello. Per cui questo era l'obiettivo. I ragazzi devono sentirsi tranquilli, devono sentirsi in un ambiente, tra virgolette, ovattato e non sentirsi sempre sotto stress. Se c'è un ambiente, si crea un ambiente tranquillo attorno alla squadra, quindi si crea un ambiente in cui loro devono pensare soltanto ad allenarsi, a seguire le direttive del mister e a riproporle in campo, allora arrivano i successi. Il rapporto con i tifosi deve essere rinnovato, puntando soprattutto sui più giovani. Ma sì, perché essere stati con tutta la squadra una sera dopo un allenamento, sapendo che poi la mattina riprendi l'allenamento, al Castello di Drapia, è stata sicuramente una forzatura per i ritmi che hanno i giocatori. Ma l'abbiamo fatto perché abbiamo incontrato una cinquantina di bambini che erano entusiasti, che vogliono venire a vedere la prima partita casalinga e li vedrete in tribuna, ma che porteranno i loro genitori, i loro fratelli maggiori, i loro parenti. È così che si riattiva e si riaccende la tribuna, si ripopola la tribuna. Queste attività sicuramente le abbiamo fatte. Con gli storici tifosi, io ho aperto, l'ho detto anche prima, ho aperto questa tribuna e sono stati i primi che ho incontrato. Prima ancora di scegliere il direttore sportivo, l'allenatore, abbiamo parlato prima con i tifosi, per quale motivo la curva è vuota, per quale motivo, cosa dobbiamo fare per... Quindi questo dialogo per me è costante e quindi io ci sto, però quello che non accetto è l'offesa pure semplice, soprattutto nei confronti del Presidente, che assolutamente non merita di essere insultato e offeso, così come è avvenuto nei giorni scorsi.